Siamo qua al Festival dello Sport, come ti sembra l'inizio di questa storia? Inizio promettente, abbiamo iniziato ormai già da un mesetto e mezzo, non questo, quello dopo iniziamo il campionato e speriamo, dai le basi ci sono e speriamo di far bene, noi come sempre vedremo il massimo e speriamo di avere anche un bel supporto dai nostri tifosi. Il gruppo di quest'anno come ti sembra? Il gruppo sono contento dei ragazzi perché abbiamo mantenuto buona parte della squadra lo scorso anno, il core del team è italiano e questa penso sia una cosa positiva, la città ha lavorato bene a prendere ragazzi stranieri che hanno già giocato in questo campionato, quindi questo penso che possa aiutare sicuramente la squadra e anche loro, loro stessi, conoscendo già il campionato. Un commento sul Festival dello Sport, siete contenti di essere qui? Sì, sì assolutamente, è una bella cosa che in Trento organizzi questo tipo di eventi, comunque lo sport penso che sia una delle cose più belle della vita, comunque dove ti fa stare insieme ad altre persone, ti coinvolge e quindi sono felice, ma sono felice per Trento che ha preso questa iniziativa e ha stata brava comunque a organizzare questo tipo di evento. Grazie a tutti!